Eccoci qua, buongiorno a tutti, siamo qui al punto in studio di Telefriuli, ospite della trasmissione è il sindaco di Germona di Telefriuli, Roberto Revlant. Benvenuto sindaco. Grazie, grazie assolutamente a tutti. Allora, sul coronavirus la siamo perdere perché voi avete gestito benissimo e quindi invece mi interessa parlare molto del piano delle opere perché l'ultima volta abbiamo visto proprio con il sindaco di Germona il piano delle opere che mi piace che sta andando avanti e anzi. Sì assolutamente, diciamo che se mai ce ne fosse stato bisogno dal covid e dalle conseguenze del covid di natura economica credo che la risposta più importante da dover dare è far partire cantieri, lavori e ovviamente per garantire l'occupazione che è il dato fondamentale per le nostre comunità. Quindi lo slancio che stiamo cercando di dare al comune vuoi per modernizzarlo perché comunque c'è una necessità di dare una visione al comune per i prossimi 10-15 anni ma vuoi soprattutto perché per i prossimi 2-3 anni stimiamo parecchi cantieri nel nostro territorio. Ecco, poi mi pare che avete messo a mano un po', avete un po' di problemi a casa per anziare e mi pare che state risolvendo. Sì, abbiamo partecipato a un bando che è stato finanziato dalla regione e diciamo ultimeremo quelle che sono le opere interne di modernamento, di sistemazione per quanto riguarda i servizi igienici, gli spazi e quant'altro, soprattutto gli impianti di climatizzazione e il trattamento dell'aria che sono l'ulteriore tassello per dare veramente al centro anziani una struttura di elevata qualità. A Campolessi, come sono informato, c'è un centro riabilitativo che volete, quindi un'altra opera sociale insomma. Sì, noi stiamo trattando a 360 gradi tutto il patrimonio immobiliare comunale rivedendo anche tutti quelli che sono i servizi che vanno potenziati ed un'attenzione particolare anche la vogliamo rivolgere ai disabili, anche qui abbiamo partecipato sempre a un bando regionale ottenendo un cospicchio finanziamento ed ora ci stiamo prestando per far avviare tutto l'iter progettuale per riuscire a dare un centro completamente ristrutturato o un nuovo centro, adesso valuteremo il da farsi, proprio per garantire servizi efficienti ed efficaci e proprio anche a queste fasce deboli. Poi c'è anche la questione dell'ospedale, del polo di eccellenza della cardiologia, no? Mi pare che è stato già il vice governatore, il vice presidente Riccardi, da voi mi pare che siete a buon punto, avete buone speranze. Ma sì, mi sento di ringraziarlo anche oggi il vice presidente Riccardi, il governatore Fedriga, proprio per il percorso avviato assieme ai diversi sindaci del territorio, ai comitati, all'assessore Zilli che è gemonese, quindi in molti abbiamo fatto un ottimo lavoro anche grazie ai contributi di alcuni professionisti locali. Crediamo di essere stati anche pionieri rispetto a quello che sta succedendo oggi, ovvero si sta parlando di specializzazione degli ospedali. Gemone è stata la prima nella nuova legislatura che ha individuato un nuovo canale assente nella nostra regione perché non c'è un centro di riabilitazione cardiologica, neurologica, in particolare cardiologica, presente e molti dei pazienti migrano fuori regione con costi ovviamente elevati da sostenere per il sistema sanitario regionale. Quindi garantiremo un'offerta fondamentale alla regione stessa, oltre che al nostro territorio e questo porterà ulteriori servizi anche a vantaggio, tutto vantaggio dei cittadini che negli ultimi anni erano andati via via perdendosi. Beh, questa è una battaglia politica anche come sindaco di Gemone, oltre che mi pare tutta la ragione, ma come sindaco, questa è una battaglia politica che si sente intestare il sindaco. Ma io credo di volerla condividere con tutta l'amministrazione e con tutti i soggetti che hanno partecipato a questo tavolo, ripeto, e credo che sia il giusto modo di approcciarsi anche all'interno il sistema sanitario, di non creare doppioni, ma di creare invece eccellenze, che sono quelle che ci renderanno veramente e confermeranno che il nostro sistema sanitario è un sistema così come è stato dimostrato nel Covid all'altezza e potrà veramente garantire anche un futuro alla sanità di questa regione. Poi altri temi sociali, abbiamo anche la scuola materna che mi pare che cercate, anzi, sicuramente di ristrutturare, anche perché in questi momenti dove non si sa se le scuole riprenderanno o meno, i lavori in qualche modo saranno agevolati. Sì, noi stiamo cercando, il momento è ancora ricco di incertezze, non ci sono ancora disposizioni governative, soprattutto per quanto riguarda le scuole dell'infanzia. Noi comunque oggi prende avvio il cantiere per la sistemazione di un plesso legato all'infanzia. Nel nostro programma elettorale c'era la volontà di sistemare tutto il patrimonio scolastico, questo è un ulteriore tassello che prende avvio oggi, sistemeremo il parco giochi, sistemeremo la scuola, lo adegueremo al migliore dei modi per garantire anche ai bambini un servizio ottimale. Poi spulciando tra le vostre delibere, ho visto che avete messo dei soldi anche per ristrutturare tutta la sede comunale, mi pare l'avete dato a quasi 400 mila euro. Il centro storico di Gemona è stato completamente ricostruito quasi 40 anni fa e l'intero centro storico non è mai stato oggetto di interventi, come ogni casa anche quella comunale non ha avuto interventi di manutenzione significativi ed è venuto il momento di dargli un restyling complessivo, una riqualificazione energetica e vogliamo dare anche l'esempio proprio al resto della cittadinanza perché oggi ci sono diversi canali di finanziamento importanti, voi il bonus facciate, voi il super bonus di questi giorni e credo che l'esempio lo deve dare comunque sempre la pubblica amministrazione e quindi investiremo in casa nostra come fa qualsiasi cittadino. E con la posizione come va? Perché c'è qualche fibrillazione ma mi pare che riesci a rabonirla abbastanza, per aver capito. Ma io cerco di lavorare sempre in collaborazione con tutti i soggetti, poi le idee molto spesso più vengono condivise, più trovano un consenso largato e meno frizioni portano nel territorio e anche nella comunità. Abbiamo bisogno di, le amministrazioni comunali, i comuni generali devono guardare ormai a 10-20 anni e ci sono certi processi che devono essere condivisi con la maggioranza della comunità anche se non sono dello stesso colore politico. Quindi su determinati temi ci confrontiamo, molto spesso troviamo una condivisione, devo dire quasi sempre, perché al di là dei spunti politici legati molto spesso anche a partite nazionali, per quanto c'era a discutere nel nostro territorio, credo che l'amministrazione comunale di Gemona abbia avuto un notevole appoggio anche dalle minoranze, quindi sta a significare che forse i lavori che stiamo facendo sono quelli giusti. Ecco questo anche per la banda larga, perché 2.000 persone saranno interessate alla banda larga, quindi anche per l'innovazione del posto, anche per l'insediamento di nuovi, no? Sì, questa innovazione che abbiamo voluto portare a Gemona stava nel nostro programma elettorale ancora prima del Covid, perché adesso è facile dire abbiamo bisogno di banda larga e quant'altro. Allora è stata l'intuizione di questa amministrazione comunale, ha trovato in Open Fiberla un valido collaboratore per dare un'accelerazione importante a questo processo, sono già attivi due cantieri su tre, quindi credo che per la fine dell'estate o comunque l'autunno si completeranno questi due lotti che andranno ad attivare circa 3.000 o 3.500 abitazioni. Bene, avete investito anche per l'ambiente, mi pare, per piste ciclabili. Insomma, pare che sia tutto rosio in questo momento a Gemona, eh? Allora, bisogna sempre guardare al meglio, non bisogna mai accontentarsi dei risultati ottenuti. È evidente che siamo in una fase di pianificazione e di avvio della progettazione, quindi credo che molti risultati si vedranno a fine legislatura, credo, nel 2022. Però diciamo che abbiamo prontato parecchi cantieri e la realtà di Gemona potrebbe diventare ulteriormente interessante ed attrattiva, che è quello che vogliamo. Ecco, senta, durante questa estate molti si chiedono dove andare, no? Perché Gemona mi pare che offre molti spunti, molti eventi, anche internazionali. Ecco, se magari ce li vuoi ricordare, perché magari qualcuno pensa, dice dove vado, dove non vado, e invece qui vicino abbiamo... Sì, Gemona da vivere è sempre piacevole. Nel Covid abbiamo capito che già offre tantissimi servizi e ha una capacità commerciale elevata e anche produttiva. A questo abbiamo voluto affiancare una promozione anche territoriale legata al nostro centro storico. Ogni sabato e domenica, per esempio, si può venire a Gemona. Ci sono dei gonfiabili, ci sono degli elettamenti musicali. C'è una piacevole passeggiata da poter fare nel centro. Abbiamo aperto i musei anche con la collaborazione dell'Istituto Magrini Marchetti, con l'Auser, l'abbiamo cercato di attivare assieme alla parrocchia. Abbiamo voluto mettere all'esposizione i cittadini di Gemona e non di Gemona, i turisti, tutto il nostro patrimonio. E quindi credo che questo sia anche un elemento in questo momento molto importante e che guardi anche questo in prospettiva come un'esperienza pilota che verrà senz'altro replicata nei prossimi anni. C'era una volta un punto di ferimento col Sudafrica, se non vado errato, dove c'erano degli atleti che proprio avevano trovato a Gemona l'habitat, il contesto giusto per poter dare il meglio. Avete ancora questa collaborazione? La testimonianza della grandezza e della straordinarietà del nostro territorio, parlo del Friuli Nese Giulio in generale, ma anche di Gemona e di quanto vengono apprezzate le nostre impiantistiche sportive, sta nel fatto che proprio anche quest'anno Sudafrica, nonostante le condizioni note a tutti, abbia voluto ritornare a Gemona. L'abbiamo fatto in collaborazione con promo turismo e con la regione come da anni oramai, si stanno allenando a Gemona e ovviamente in primis è il campione olimpionico Wade Van Niekerk che di fatto è la stella oggi sul mondo dell'atletica. Quindi credo che il Friuli Venezia Giulio e Gemona possano essere orgogliosi di questo dato e la testimonianza che anche il sistema salute sia particolarmente efficiente ed efficace nella nostra regione lo dimostra anche da queste scelte. Ecco Sinta, i campionati di parapendio continuano? I campionati mondiali di parapendio erano previsti nel 2020, però è evidente che le condizioni di trasporti abbiano impedito l'organizzazione di questi legati al parapendio carbatico, sono stati posticipati al 2021 e quindi ci diamo appuntamento tra un anno. Ecco Sinta, bisogna che... lei fa parte anche del callo, parte del gruppo dei sindaci che ratificano un po' le leggi regionali. È stato anche il consigliere regionale, quindi il meccanismo lo conosce molto bene. Queste leggi che vengono avanti, che il presidente Federica ci ha chiesto, ha chiesto così un po' ai sindaci, mi pare a lanci in primis queste proposte sulle nuove province, nuove aree insomma, no? Vedrà l'alto Friuli in prima battuta oppure sarà tutta un'area Friuli secondo lei? Ma in questo momento sono stati riproposti i perimetri delle vecchie province. So che c'è una richiesta di cui mi ero anche fatto portavoce assieme a tanti altri sindaci di una divisione rispetto a quello che è il territorio montano, ma allargando ad una realtà montana che parta da Claude e arrivi fino alle valle in altre zone. Sì perché si parlava di questa provincia, tra virgolette montana. C'era questo spunto. Io adesso non so se ci sia necessità di un ente o di un qualcosa. Certo è che la realtà montana ha delle condizioni completamente diverse ad altri territori e quindi credo che sia meritevole di funzioni speciali che possono essere gestite negli stessi territori. Mi piace ricordare che lo stesso Federica diceva che le decisioni della montagna devono arrivare da chi ci vive in montagna e quindi credo che questa sia la condizione che vada portata avanti. purché la burocrazia venga un po' diminuita, limata, perché è difficile cancellarla ma quantomeno, no? Cosa dice? Io credo che la burocrazia sia fatta dagli uomini, quindi gli uomini fanno la differenza sempre. Se c'è impegno, volontà, i risultati si ottengono. Quindi è venuto il momento di lasciarla a parte il non si può, non si può, il Fasarin, bisogna fare, accelerare tutti i processi perché c'è un mondo qui fuori che corre parecchio e noi dobbiamo essere all'altezza di riuscire ad andare a correre assieme a questo mondo. Ecco possiamo dire che il modello Gemona potrebbe essere in qualche modo importato o no? Si sente di dirlo o no? Io posso dire che il modello della ricostruzione di Gemona è un modello che è ancora noto a tutti. Noi abbiamo voluto ripartire da quel modello lì pensando che a distanza di 40 anni bisogna dare una nuova spinta. Lavoriamo per questo, lavoriamo a sodo, dei consiglieri comunali, assessori validissimi, una struttura che dà sempre risposte che vengono richieste, quindi io posso solamente parlare positivamente della mia esperienza. Dopo saranno altri a distanza di qualche anno a valutare se quella attuale è stata una buona amministrazione o se non lo sarà stata. Bene, grazie al sindaco di Gemona, che ci ha portato una ventata di ottimismo e questo ci vuole molto perché anche dal punto di vista psicologico ci aiuta a vivere bene. Grazie ancora, grazie a Telefriuli e naturalmente grazie a voi che seguite il punto con tanto effetto. Alla prossima! Grazie a tutti!